Forse si vaccineranno o anche no, non adesso, magari in autunno, chissà, oppure dopo la prima dose saltano il richiamo se scoprono di avere abbastanza anticorpi. Sono gli indecisi della vaccinazione e quindi dell'immunizzazione. All'inizio probabilmente sognavano il vaccino, come tutti, e magari hanno trascorso le notti aspettando di essere in turno per la prenotazione digitale, ma all'ultimo vuoi per le percentuali, seppur basse, di gravi effetti collaterali e soprattutto dell'ondivaga strategia di comunicazione istituzionale sui vaccini, migliaia di Sivax si sono trasformati in Nivax, Bovax, forse Vax. Preoccupato il direttore generale Antonio Durso, nell'ASL, nelle varie classi di età e anche fra i sanitari, ne mancano molti all'appello vaccinale e il sospetto è che siano proprio gli indecisi. Chi pensa di vaccinarsi in autunno con la variante Delta in giro mette a rischio non solo le conquiste di immunizzazione fatte da ASL e Regione, ma anche la sua vita e la serenità delle persone a lui care. I renitenti alla vaccinazione sono 60-69 anni e 50-59 anni, proprio coloro maggiormente colpiti dalle complicanze del virus. Per convincerli, spiega ancora il DG Durso, non serve certo l'aggressività, quanto piuttosto un atteggiamento di dialogo. Quindi, aggiunge, fa un appello a tutti i vaccinati. Se avete un parente indeciso, ascoltate le ragioni e poi magari cercate di spiegare perché è vitale vaccinarsi. Nel frattempo, però, le regioni hanno chiuso i portali per le prenotazioni in vista di un futuro con minori consegne di vaccini. E questo non è che aiuti gli indecisi. Anzi, starà al generale Figliuolo, che venerdì tornerà in Toscana per la seconda dose di vaccino agli abitanti dell'isola del Giglio, sbrogliare la matassa. Domani, infatti, è previsto un incontro con i governatori sul tema. A rischio, il prosieguo delle vaccinazioni fissate in prima dose per luglio e agosto.